Musica Posia d'arte, la manifestazione è dedicata al wedding e alla home. Per il terzo anno consecutivo siamo presenti qui alla Cantina Borbonica con professionisti del settore wedding. Questa manifestazione è dedicata a tutte le future coppie di sposi che hanno deciso di rendere veramente speciale il loro giorno più bello. All'interno troverete professionisti quali catering, fotografi, bomboniere, auto, arredamenti, insomma tutto quello che riguarda l'organizzazione e la casa per le future coppie di sposi. Tante novità quest'anno, ancora più delle edizioni precedenti. Quest'anno abbiamo inserito tante piccole chicche che ci regalano i nostri professionisti, i fornitori che troverete all'interno, che comunque sono tutti leader nel loro settore. Questa è una cosa alla quale tengo particolarmente io come curatrice della manifestazione. Troverete tutte persone che sono comunque specializzate in quello che vi offrono. Noi come studio, come Dodo Wedding diciamo sempre alle nostre future coppie di sposi una cosa molto importante. Quel giorno vi affidate a dei professionisti, quindi è vietato sbagliare. Questa è molto importante per noi e qui all'interno della Cantina Borbonica troverete queste specialità del settore wedding. Io dico sempre che le manifestazioni fieristiche comunque organizzate in un certo modo sono importantissime perché vi danno la possibilità di avere un confronto tra professionisti dello stesso settore all'interno dello stesso luogo. Quindi qui troverete tanta scelta, ampia scelta. Come vi dicevo poc'anzi, certamente troverete tutti i professionisti, però poi devono comunque sposare quello che è il vostro gusto. Vi invitiamo tutti da stasera, dalle 16 fino alle 24 fino a domenica 2 ottobre. Domenica troverete anche un gruppo folcloristico trovandoci all'interno della Cantina Borbonica e un gruppo medievale che sarà a vostra disposizione per fare qualche foto. Una cosa molto importante, venite con le scarpe comode. Grazie a tutti.